. Ivana Mrazova Pomeriggio 5, ho lasciato il mio fidanzato. Luca Onestini? Non so cosa succederà tra di noi. Grande fratello VIP, Ivana Mrazova Pomeriggio 5 conferma la rottura con il fidanzato. Dopo giorni di gossip arriva finalmente la conferma, Ivana Mrazova e il fidanzato Alessandro si sono lasciati. A farlo sapere è stata direttamente la modella Pomeriggio 5. L'amica di Giulia Delellis ha confessato a Barbara D'Urso di aver mollato il ragazzo subito dopo la fine del grande fratello VIP. . La cieca ha capito dentro la casa di Cinecittà di non essere più interessata all'imprenditore che frequentava da circa cinque mesi. . Rinchiusa nel bunker ha compreso di non provare più sentimenti ma per rispetto ha deciso di aspettare e avere un confronto faccia a faccia con il giovane. . Che, come confidato dalla diretta interessata, non l'ha presa molto bene ma ha accettato la decisione dell'ex valletta del Festival di Sanremo. . Le dichiarazioni di Ivana Pomeriggio 5. Non era un vero e proprio fidanzamento ma una frequentazione ha spiegato Ivana Mrazova ladd'Urso. . Quando è entrata nella casa del grande fratello l'indossatrice frequentava Alessandro da circa cinque mesi. E, lontano da tutto e da tutti, ha capito di non voler continuare a conoscerlo. Dentro il reality show ho pensato molto, ho analizzato i miei sentimenti. . Poi una volta finito il programma lo lasciato ha precisato Ivana. . E poi ancora, lui non l'ha presa bene ma ha capito. . Abbiamo parlato faccia a faccia. . . La scelta è forse dipesa dalla vicinanza a Luca Onestini con il quale è nata una forte amicizia nelle ultime settimane della trasmissione condotta da Ilari Blasi. . Ivana Mrazova è Luca Onestini, solo amici, per ora. Lui è un amico, non so cosa succederà tra di noi. . Quello che succede succede ha confessato Ivana, che sembra pronta a lasciare una porta aperta all'ex tronista di Uomini e Donne. . Lo stesso ha fatto Mister Italia mattino 5, dove è stato intervistato da Federica Panicucci. . Ivana e Luca restano per ora solo amici ma continuano a frequentarsi. . Da quando è finito il grande fratello escono spesso insieme a Milano con altri amici tra cui Raffaello Tonon. .